La Guardia di Finanza intensifica gela l'attività di controllo del territorio mediante interventi ispettivi in materia di lavoro nero nei confronti dei principali locali e stabilimenti balneari del lungomare Federico II di Svevia, luogo di ritrovo della movida estiva. Individuati quattro lavoratori impiegati in nero perché in assenza delle preventive comunicazioni obbligatorie di staurazione del rapporto di lavoro e quattro lavoratori irregolari per i quali sono state riscontrate anomalie amministrative circa la posizione contrattuale. Sono stati sorpresi dalle fiamme gialle mentre prestavano la propria attività in orario serale, come camerieri, addetti al banco bar e alla cucina. In due occasioni i finanzieri hanno accertato la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto di lavoro. Proposto e ottenuto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale oltre alle relative sanzioni amministrative. La Guardia di Finanza è costantemente impegnata nel contrasto del fenomeno dello sfruttamento della manodopera che di particolare attenzione anche da parte della Prefettura, che costituisce una grave forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici rispettosi delle leggi e poiché ancorato a forme di evasione fiscale e contributiva, rappresenta soprattutto un danno notevole per gli stessi lavoratori.